Però adesso facciamo l'attenzione, abbiate pazienza, la facciamo per noi, piace a noi ma in generale non è ben attualta dal pubblico Eh no dia, affermi stessi? Ma sì, chissà, è andato due a tre minuti E' da fatto i video orecchi Are you right? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.